Campionato federale 1901, eliminatorie, sezione Piamonte, Torino, 14 aprile 1901, ginnastica Torino contro Juventus 2 a 1, giocata al campo Piazza d'Armi. Sezione Lombardia, Milano, 14 aprile 1901, Milan Mediolanum 2 a 1, giocata nel campo Trotter. Semifinale, Torino, 28 aprile 1901, ginnastica Torino, Milan, 0 a 0, giocata al Piazza d'Armi, si fanno dispareggi. Milan, 2 aprile 1901, Milan, ginnastica Torino, 1 a 0, giocata al campo Trotter. Finale, Genova, 5 maggio 1901, Genova-Milan, 1 a 0, giocata allo stadio Ponte Carrega. Carrega, campione d'Italia, il Genova-Albodoro, 1898 Internazionale Torino, 1899 Internazionale Torino, 1900 Milan, 1901, Genova. Ora vi lascio con le immagini. Buona visione con FIFA Italiano. Buona visione con FIFA Italiano. Buona visione! Buona visione! Grazie. 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 Grazie.